I più grandi studiosi italiani negli stati modificati di coscienza era venuto a trovarci in questo centro e aveva detto ah avete fatto su un centro di shakeraggio mentale scherzando no? e ascoltando quello che diceva Matteo mi è venuto in mente che poi alla fine il risultato di questo cocktail dipende molto dal barman cioè nel senso non è tanto l'apparecchio, non è tanto gli ingredienti che si mettono dentro ma quello che ne risulta dipende molto dal barman dal tipo di cocktail che riesce a fare su e Marti intocca che non vedo presente eccolo qui, ciao Marti che introdurrà un ulteriore elemento, un elemento marginale della nostra società che è il denaro e che in relazione a individuamente ogeni tradizionali quindi lascio la parola a Marti I'm very happy to be here but I'm also a little bit nervous I know that we live in a culture where it's very common and normal to put someone in a position like I am in now and to speak to a room full of people but I'm not very comfortable with this in general and in a way I think that the things that people are talking about at this gathering are so important but they almost take place in secrecy Sì, allora comincia a tradurlo No, no, no Sì, sì, sì Scusa per non fare l'italiano che è molto contento di essere qui ma è anche molto nervoso e che l'idea un po' dei convei in generale non vi piace molto perché non vi piace stare sul palco e dice anche che le cose di cui stiamo parlando e parleremo nella giornata di oggi sono talmente importanti che forse sono talmente preziose che forse vanno dette in segreto but... ti so ma questo helfen Wa questo è facile da capirare cosa sto dicendo ti so sì 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 tecnico io nemmeno misogliosa in una forma uno getta ma anche che non sono, non in Pop crowds siccome l'esserevo citare l'espi Sì, il titolo è proprio da quel momento quando pensavo che era molto importante, che stavo a stare qui e parlare con tutti voi. Quindi pensavo che questo deve avere un titolo, qualcosa che dice quanto importante è. Quindi non ho un'esperto sull'ayahuasca, ho molto poco potere e non ho pieno, quindi non ho un'esperto sull'ayahuasca. E il titolo è ancora più ridicoloso perché, in realtà, deve parlare di una regezione della politica economia di enteogeni. Penso che deve essere rinforzato, magari, da questi tipi di discorsi. O che questi discorsi devono essere cambiati, per cui possano realmente incluire queste forme culturale di usare enteogeniche per rilasciare in nuove mani. Diceva, stavo scherzando sul segrete, ma dovrebbero essere il meno pubbliche possibile e spiegherò durante la mia presentazione il perché. volevo spiegarvi il titolo e niente, ho dato semplicemente un titolo, ci ho dato il titolo perché dovevo darmi una più importanza. Però io non sono un esperto in ayahuasca, il titolo è ayahuasca, potere e denaro. Quindi dice, non sono un esperto di ayahuasca, non ho nessun tipo di potere, c'ho pure pochi soldi. E anche sul sottotitolo, ma questo non l'ho colto proprio del tutto, diceva che rumination dovrebbe essere rejection o dovrebbe essere rifiuto di un'economia politica degli enteogeni. E questo perché... e questo perché... non l'ho tanto capito che... You have to explain why a rejection nor a rumination. Yes, so, I hope that it will explain itself as I continue. I hope that in the end I will get back to where we started, but it might be a little bit difficult to get there, because I don't have, like, fully formed thoughts about any of this. I mean, these are all just... these words are sort of expressions of some of the thoughts that I have had in this context. Sì, spera di poi riuscire a ritornare alla fine del suo discorso, anche a spiegarci perché è più rifiuto che non ruminazione. E appunto quello che leggete... devo tradurre anche lo scritto? Sì? Una domanda? No. Quelle che vedete, che potete leggere, appunto la battaglia della lucertola, un modo di organizzare la società, sciamani, fiumi, cause, effetto, comunità, eccetera, sono un po' una... un fiume di pensieri più che una... che gli sono ulteriormente quando gli è stato chiesto di venire a parlare qui. Sì? Sì? Um... In una modo, sto dicendo una storia, o diversi storie, da mie esperienze in Ecuador e Peru. e queste tre adreste sono un po' dove alcune di queste idee sono, dove ho trovato prima. Non è veramente molto importante. Ma... um... I spent, um... two years between, or in 2006, 7, and 8, working with traditional healers in Ecuador and Peru. Sì, io oggi vi racconterò delle storie rispetto alle mie esperienze avute in Ecuador e in Perù. Questi sono dei link da cui potete scaricare dei materiali, da cui ho anche preso spunto. In particolare vi racconterò delle storie che derivano dai due anni che ho passato a lavorare insieme a degli sciamani e dei curanderi tra l'Equador e il Perù tra il 2006, il 2007 e il 2008. La prima cosa che ho dovuto rispondere a essere in questa situazione, lavorando con i tipi tradizionali, è che vedono il mondo in una forma completamente diversa. Non è possibile tradurre piccoli piccoli, 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 dalla realtà di persone che vivono in Amazon e persone che vivono, per esempio, in Milano. Si dice la prima cosa che è importante riconoscere quando, parlando anche della sua esperienza con il curanderi, è che non è solo una questione di tradurre le esperienze quotidiane che si possono avere tra i Napoli, l'Equador o a Milano, ma è proprio la difficoltà sarà di trasmettere proprio un modo completamente diverso di vedere il mondo. Quindi, la ragazza nella foto è chiamata Ines, è una ragazza molto buona, e si prende l'ayahuasca, e si appreste questo da sua madre, e la sua madre appreste questo da sua madre, e così via. E così via, come preparare l'ayahuasca in quella parte dell'Amazon, con le quichua, come si chiamano, è molto comune che sono le donne che si trattano l'acqua, e anche la collezione delle planti per fare l'ayahuasca. Si, la persona, la donna che vedete nella foto si chiama Ines, è una squisita, e nella foto sta cucinando l'ayahuasca e ha imparato a cucinare l'ayahuasca da sua mamma, sua mamma l'ha imparata da sua nonna, e così indietro nel tempo. Nella cultura napo, e molte, forse tutte le mazzone che non so se proprio l'ha detto, preparare l'ayahuasca è un compito che spetta le donne, non solo per quanto riguarda la cultura, la preparazione della bevanda, ma anche per quanto riguarda la scolta delle piante. Questo significa che il compito di creare l'ayahuasca e l'azione di creare l'ayahuasca non è qualcosa che puoi comprare per l'argento, in questo modo, in questo modo, che non sono un problema, che non sono un problema di creare l'ayahuasca, perché non si che lo vede, non è un problema di creare l'ayahuasca, Questo significa che tutto cambia. Quando il mezzo entra, tutto cambia. e questo non è un punto theoretical, non è qualcosa di altra, questo è il mosto scopo, il mosto scopo, il mosto scopo, il culture shock in the Amazon, in Europa si parlano di gentrificazione, e si puoi vedere che grandi bambini sono cambiando e così, ma è tutto un po' fluido, e l'argento è ovunque nella nostra società, si flacce a tutto, anche qui ci sono, e l'altro, 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 ma quando non hai l'argento, e l'argento arriva, è un cambiamento molto drammatico, e in Amazon, vedete ogni giorno come questi cambiamenti drammatici in France, in local societies. Sì, dice che appunto il fatto di questa ereditarietà nella conoscenza e la decorazione della Yahweh, diciamo, è una cosa che non si può comprare, ma non si poteva comprare, diciamo, originariamente, perché le cose sono molto cambiate quando sono arrivati stranieri, turisti, viaggiatori, e dice che tutto cambia in modo abbastanza radicale quando entra il denaro, quando arriva il denaro, entra in scena il denaro, cambia tutto, e lo dice non in maniera astratta, teorica, ma dice proprio un cambiamento che è anche concreto, ed è uno dei shock più grossi che hanno subito le culture amazoniche, è stato proprio quello dell'arrivo del denaro, qui si parla di gentrification, quando appunto nei quartieri si costruiscono i palazzi, i quartieri cambiano, eccetera, però in qualche modo è comunque una cosa che ci sconvolge, che porta a cambiamento nei contesti in cui viviamo, però tutto sommato noi col denaro ci abbiamo a che fare sempre, abbiamo a che fare in Torchiera, al bar, eccetera, mentre quando non hai soldi e questo improvvisamente arriva, il cambiamento è molto più radicale ed impatta in modo potentissimo sulle società locali. Ok, so I'll just quickly return to what I just said earlier, that it's a very different reality, so you have to, if you want to understand what's going on, you have to somehow let go of how you think reality is structured in your own culture. and then I will try and tell a few stories which is supposed to just to help communicate how this difference can be experienced. I'm not trying to really explain it, I'm just trying to give you some examples of how I have experienced it. and then Ines in the photo, for example, she makes the most amazing ayahuasca you can imagine. and then one day when we were brewing together, I asked her if she never drinks, because she's like this sort of fantastic witch, or a woman who can make this amazing rule that can send people to very far away places, and she looked at me as if I was a bit stupid, like as if I didn't really understand what this was about, and she said, but I'd brew it.